Gli attivisti di potere al popolo condannano la decisione dei governi precedenti, dei premier Berlusconi e Monti, di liberalizzare totalmente il commercio negli orari di apertura e chiusura anche nelle giornate festive. I padroni della grande distribuzione tengono aperti i centri commerciali più a lungo, senza nuove assunzioni e senza pagare alcuna maggiorazione per il lavoro notturno e straordinario. Questo e tanto altro si legge nel volantino che gli attivisti di potere al popolo hanno consegnato questa mattina a Campobasso, nei pressi di alcuni esercizi commerciali tipo supermarket, che hanno deciso di aprire alla vendita i loro magazzini anche nella giornata festiva. Una situazione che nasce dalle decisioni del governo capitanato da Silvio Berlusconi prima e poi avvallate dal governo Monti, che si ricorderà era sostenuto dal voto del Partito Democratico, diretto a quel tempo dal segretario Pierluigi Bersani. Decisioni che liberalizzarono l'intero comparto del commercio, liberando di fatto gli orari di chiusura ed apertura dei luoghi della grande distribuzione. Una situazione che nel tempo è estremamente peggiorata, perché non ha aiutato sicuramente allo sviluppo, in un periodo dominato dalla crisi economica, dove molte persone hanno perso il lavoro, portando le famiglie ad un ridottissimo potere di acquisto delle merci, partendo proprio da quelle necessarie al sostentamento, quelle dei generi alimentari. Oggi un presidio per richiamare alle responsabilità istituzionali, per ricordare le scelte sbagliate di governi che invece di sostenere, la gente normale ha scelto di sostenere chi fa del profitto la base della propria spinta speculativa. Un volandinaggio che vuole, dichiarano gli attivisti di potere al popolo, affermare la solidarietà con chi è costretto a lavorare. Un volantino che invita e chiede ai cittadini di boicottare i centri commerciali durante i giorni festivi, per ricostruire un diritto che è stato e che continua ad essere assolutamente negato, quello del riposo durante i giorni di festa.